Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale Siamo qui oggi in versione molto natalizia per andare a provare insieme una palette che in realtà di natalizio ha ben poco Sto parlando della palette di Glamlite per Michaela, penso si pronunci così Questo è l'interno della palette, ha anche uno specchio mega gigante qui dietro che però abito di farvi vedere per non accecarvi Come potete percepire anche in video ha degli shimmer veramente veramente super luminosi Ma se avete già visto altri miei video saprete che io amo questo brand Come vi stavo dicendo poco fa questa non è assolutamente una palette appena uscita Anche se in realtà il pack con tutte queste scrette argentate con i glitterini potrebbe un po' richiamare il tema delle feste Perché questa credo sia uscita a fine della primavera, comunque inizio estate, qualche mese fa comunque Calcolate che mi sarebbe dovuta arrivare per il compleanno, ovvero a fine agosto Ma ci sono stati un pochino di problemi perché avevano tipo perso il pacco Però l'assistenza clienti di Glamlite è veramente top raga Perché appena contattati hanno subito risposto Chiedendomi se appunto avrei preferito un buono da spendere sul sito Oppure se volevo che mi rimandassero la palette Ho dovuto aspettare che facessero di nuovo il restock Perché questa palette raga non so come mai ma appena arriva vola via subito Quindi ogni volta c'è da aspettare il restock E quindi per questo ci ha messo un po' di tempo ad arrivarmi Quando è arrivata pure ho dovuto pagare la dogana Vi anticipo già che di questa palette non mi fa impazzire il pack Nel senso vi chiederete come mai non ti piace, è tutto glitterato, tu ami glitter? E davvero mi piacciono i glitter Comunque lo trovo un pack super carino Sono abituata a vedere da Glamlite pack con forme super particolari Quasi sempre inerenti al cibo Questo sinceramente non mi sa di Glamlite Quindi in realtà solo un pochino per questo Comunque direi di non perderci in ulteriori chiacchiere Andare a provare questa palette Vedere un po' se hanno mantenuto la classica qualità super top di Glamlite O essendo una collaborazione l'hanno cambiata Mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look E ho già applicato il primer Ho utilizzato la rugiada di Neve Cosmetics Voglio provare ad andare a fare una combo con questi tre colori Ovvero Audrey Stunning e Nars Vado innanzitutto come primo colore matt ad applicare Fresky Ovvero questo viola E ho intenzione di applicarlo nella parte più esterna dell'occhio Ho intenzione di andare a creare una cut crease completa Quindi sì insomma diciamo che mi serve nella parte più in alto una situazione abbastanza sfumata Vado quindi ora con un pennellino da sfumatura piccola Questo tra l'altro è di Glamlite della Foodie Box E vado ad applicare l'oop nella parte più interna Spero che siano bene come colori insieme Questo è un po' un mix tra un verde oliva e un verde militare Tra l'altro raga notiamo D'abbinamento pennello specchio Perché come ben sapete io ho un amore spropositato per le candy canes È super tenue questo colore Me lo aspettavo un po' più power Magari con sotto una base bianca Potrebbe risaltare molto di più Comunque questi due colori insieme devo dire che mi piacciono È venuta fuori una combo inaspettatamente carina Come potete vedere sia per questo verde ma anche prima per il viola Sono colori comunque molto stratificabili Anche tra loro si sfumano benissimo Vado ora con un pennellino pulito a sfumare ulteriormente i bordi Soprattutto della parte del verde perché non voglio oreghienette ovviamente Direi che così può andare Vado a pulire qua sotto e utilizzo uno dei dischetti già imbevuti di Primark Ve li avevo mostrati in uno degli ultimi haul Mi stanno piacendo veramente un sacco Poi in più questi hanno anche la vitamina C E in 02 abbiamo già una situa molto più definita Vado ora con un pennellino da eyeliner ad applicare la matita di NYXLA Jumbo Nella colorazione Milk La applico con un pennellino perché questa è super cremosa E appunto mi permette di essere molto più precisa E vado a pulire tutta questa zona qua sotto Essendo che mi serve solamente la parte superiore Utilizzo la 17 di Spectrum della collezione di Hello Kitty Ma va bene qualsiasi pennellino da eyeliner E come potete vedere si preleva proprio facilmente Utilizzo il pennellino principalmente per andare a definire la linea Lo vado a riempire all'interno direttamente con la matita E vado ad applicare Audrey questo bellissimo blu tipo petrolio Nella parte più esterna Lo vado ad applicare con questo pennellino E non con le mie solite spugnette Per essere più precisa Cerco comunque di applicarlo tamponandolo pochissimo alla volta Così da avere il risultato migliore possibile Oggi non vado ad applicare un glitter primer Semplicemente perché questa base è già abbastanza appiccicosa Vado ora appunto con una spugnetta Ora appunto che è stato fatto il bordo Poco da fare raga io l'applicazione con la spugnetta velastra consiglio Perché sembra tipo di utilizzare il dito È bellissimo l'effetto A questo punto mi fermo E vado ad applicare Stunning Ovvero il verde shimmer Stavolta vado direttamente con la spugnetta E applicandolo cerco anche di andare un pochino sopra la rega di Audrey Per andare a creare la sfumatura Cioè non penso che ci sia nulla da dire Questi colori sono stupendi E vi posso confermare che la qualità è sempre quella di Glam Light Sono super contenta di ciò perché ci sono alcuni brand Come vi stavo accennando poco fa Che quando fanno collaborazioni con influencer Cambiano le loro solite formulazioni E in certi casi un bene tipo Morphe Altri casi tipo una famosissima palette Che tutti conosciamo di Anastasia È un grandissimo flop Sono super contenta che non abbiano cambiato la qualità Perché trovo che Glam Light abbia veramente un'ottima formulazione Ma sia degli shimmer ma anche proprio dei matt Sono belli burrosi come avete potuto vedere Si sono sfumati benissimo Senza alcun problema Non hanno fatto macchia E vado anche di fallout Cioè Da ufo Vado ad applicare l'ultimo colore Ovvero Nas Nas Come si pronuncia Questo lilla super freddo Ha quasi riflessi azzurrini No vabbè dai un po' lo vorrei chiamare il lilla Però come potete vedere Tanto freddo L'ho utilizzato anche su un look azzurro E appunto non si vedeva troppo il lilla Perché come potete vedere Ha una bella percentuale di azzurrino dentro anche E come ho fatto prima Lo vado un pochino a sfumare sopra Stunning Quindi nulla raga Io adesso vado a ricreare lo stesso sull'altro occhio Vado ad applicare forse eyeliner Devo vedere un po' come ci sta Ciglia finte E noi ci vediamo tra pochissimo Per andare a fare insieme la base Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi Infatti vi dico brevemente che cosa ho utilizzato Eyeliner di Anastasia Beverly Hills Questo liquido mi piace tantissimo È super nero Super opaco Mascara Ha usato questa super mini size La Sexy Pulp di Yves Rocher Che l'avevo aperta da portarmi via Ovviamente la continuo ad utilizzare anche a casa Potremmo farla seccare Visto che mi piace molto E infine le ciglia finte Queste sono quelle di Shane Ho applicato con un pennellino A lingua di gatto Il Dark Circle Concealer Corrector Di NYX Nella colorazione 04 Sulla parte scura delle mie occhiaie Che andrà ora a sfumare con un altro pennellino In realtà questo è un pennellino Da sfumatura per gli occhi Ma si può adattare benissimo Anche per altri utilizzi Se lo faccio di sfumare bene i bordi E tamponare la parte più interna Così da avere maggiore coprenza possibile E ora vado sopra con un correttore illuminante Utilizzo lo Vera Key Verdi Huda Beauty Utilizzo la colorazione Marshmallow Ne basta pochino In realtà forse ne ho applicato già anche troppo Perché questo è super coprente E lo vado a sfumare con un pennello Da sfumatura Anche questo è un pennello occhi Ma devo dire che io mi trovo molto bene Per sfumare anche i correttori Ne ho anche uno apposta Per sfumare appunto i correttori Ma è da lavare Mi si è sporcato con dell'ombretto marrone Quindi direi che non è il caso Di andare ad utilizzarlo Avevo la memoria piena E si è interrotta la registrazione E quindi nel frattempo Che si stava liberando un po' di memoria Io sono andata a sfumare il correttore Perché sennò mi si sarebbe settato lì E sarebbe stato un casino Come al solito mi sono dimenticata il primer Tra l'altro mi ero portata questo illuminante di Yves Rocher Comunque Dato che dal video si vede un sacco Lo stacco correttore con la mia pelle Dal vivo meno Vi posso assicurare Comunque adesso vado ad applicare il fondotinta Per uniformare la situa E mi sono portata le radio Sempre appunto di Yves Rocher Nella colorazione mia solita Rose 200 Non mi soffermo troppo a parlarvi di questo fondo Perché sapete che mi piace Lo uso spesso Lo stacco correttore con il resto del viso È sparito E una volta sfumato il tutto con il pennello Vado con la mia blender inumidita Per togliere l'eccesso di prodotto E rendere il tutto più omogeneo Sono andata a prendere la cipria Perché me l'ero dimenticata Ditemi voi come io con la pelle mista Posso dimenticarmi la cipria Comunque vado ad utilizzare la HD di NYX Nella colorazione banana Vado ad applicare come terra la Hale Chaud di Yves Rocher Non so il francese Quindi non so come si pronuncia Spero che riusciate a leggerlo E come blush mi sono portata Rose Me Up Col pack tutto distrutto Con lo scotch di Essence Anche l'interno della cialda Poverina non è messa un gran che Il pack è andato Però il colore è molto bello È tipo tra un pesca scuro e marroncino Mi piace veramente tanto come colore da blush Infatti mi dispiace un sacco che si sia rotto Perché è diventato strafragile ovviamente Eccomi di ritorno al look completamente terminato Sono andata a completarlo con le ciglia finte anche nella parte inferiore Come matita nera sempre l'automatica di Yves Rocher Dopodiché l'ho sfumata con il pennellino appena utilizzato prima Quindi ancora sporco di Audrey E come rossetto ho utilizzato questo bellissimo blu un po' petrolio di MAC Nella colorazione Young Attitude E quindi nulla raga Questo è il look di oggi terminato Non è natalizio per niente proprio Anche perché visto il color scheme della palette ce la potevamo assolutamente aspettare Questa palette la trovo abbastanza completa Essendo che ha le prime due file di nude Se volete andare a ricreare un look nude con questa non avrete assolutamente problemi Quindi nulla il video di oggi finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate Se avete già questa palette come vi trovate nel caso Io vi ringrazio tantissimo come da solito per essere stati con me fino alla fine di questo video Vi ricordo inoltre di andare a dare un'occhiata giù nell'info box Perché lì troverete tutti quanti il link per andare a seguirmi sugli altri miei social E io vi mando un mega bacione E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video Ciao 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 Ciao